Iniziamo questo secondo video con i trucchi per Alteryx con una funzione che secondo me viene molto spesso ignorata, ossia la funzione di ricerca. Tra l'altro se vi siete persi il primo video lo trovate linkato nella descrizione. Comunque se vi trovate nella condizione di voler capire un particolare campo come e dove è stato creato o modificato ma non è magari il vostro flusso oppure semplicemente non vi ricordate tutti i passaggi che avete fatto, premendo CTRL più F possiamo cercare ad esempio il nome di un campo per vedere dove viene utilizzato e anche in che modo. Nella schermata di ricerca che esce fuori possiamo scegliere di cercare tutto o scegliere alcune delle voci disponibili. Quindi posso cercare un campo specifico e scegliere come location la voce configuration perché mi interessa capire dove può aver subito delle modifiche oppure evidenziare ad esempio tutti i sort che ci sono nel workflow per cui farò la ricerca per type. Alteryx evidenzierà i tool che rientrano nei risultati della ricerca con dei quadrati arancioni mentre se selezionate una in particolare delle voci il tool corrispondente avrà un quadrato rosso. Sempre da qui possiamo anche sostituire un valore in più tool. Ad esempio voglio sostituire nel tool summarize il campo character con char perché magari sono cambiati i dati nel mio input e voglio allineare il flusso al nuovo nome del campo. Quindi gli do il valore da cercare, quello con cui deve essere sostituito e clicco su replace. A questo punto vedrò che nel mio summarize non avrò più character ma avrò char senza aver toccato nulla nel tool stesso. Se siete un po' come me probabilmente ci tenete ad avere il vostro flusso di lavoro bello in ordine con i tool allineati tra di loro e con legamenti dritti e così via. Ecco se anziché stare a spostare ogni singolo tool, selezionate una serie di tool e fate clic destro, trovate alcune funzioni in fondo che aiutano ad allineare e distribuire velocemente i tool e sono convinto che questa cosa potrebbe risparmiarvi un bel po' di tempo. Adesso focalizziamoci un attimo sul tool browse. Innanzitutto se vi piacciono le scorciatoie da tastiera per aggiungere un browse velocemente all'output di un tool basta premere i tasti CTRL SHIFT più B. Viene comodo quando volete avere un browse ad esempio su tutti gli output di una join oppure aggiungerlo contemporaneamente a più tool. In questo modo. Si può inoltre configurare il tool browse in modo che visualizzi solo alcuni campi utili soprattutto in fase di test. Per farlo andiamo ad esempio sul tool browse, clicchiamo la prima voce della finestra dei risultati dove ci indica il numero dei campi a disposizione e da qui selezioniamo esclusivamente i campi che vogliamo vedere. Questo in realtà funziona un po' su tutti i tool. Io lo uso tipicamente sul browse perché mi viene più semplice considerarlo come una visualizzazione personalizzata dei dati, ma comunque dipende anche dalle vostre preferenze personali. Ora, quante volte vi sarà capitato di voler confrontare i risultati di due punti del flusso? Penso che è tra le attività più stressanti da fare in Alteryx, almeno secondo me, perché magari filtri una voce, vedi il risultato, vai nell'altro punto, ti dimentichi del valore esatto, insomma non è molto efficiente. Per risparmiare tempo posso fare una ricerca su un browse in modo da filtrare i record che voglio vedere e a partire da questi creare una nuova finestra andando in actions new window così da averli sempre a disposizione in una finestra a parte. Ovviamente seguendo questa logica posso creare più finestre partendo da vari punti del flusso per confrontare poi i valori, senza dover copiare la tabella su un foglio Excel o aggiungere altri tool al flusso. Se invece mi interessa proprio estrarre i dati su un file in un particolare punto del flusso, anziché stare ad aggiungere un tool output apposta, vado sempre su actions, questa volta export, all records e scelgo dove salvare il file e in che formato. Nel caso in cui Alteryx non consente di salvare direttamente dal browse, a causa magari della dimensione dei dati, posso velocemente convertirlo in un output data facendo clic destro convert to output data. Come probabilmente già sapete, dalla finestra dei risultati è possibile applicare dei filtri, applicare un ordinamento o anche cercare, mediante l'apposito box che c'è in alto a destra, cercare uno specifico valore. Però è anche possibile convertire i filtri, gli ordinamenti e le ricerche che applichiamo ai risultati in veri e propri tool, senza doverli aggiungere manualmente ma lasciando fare ad Alteryx. E per farlo basta cliccare su quest'icona verde a fianco al box della ricerca. Alteryx infatti aggiungerà da solo i tool necessari per ottenere lo stesso risultato della ricerca. Passiamo invece a qualche consiglio sul tool formula. Innanzitutto tenendo premuto control e scorrendo con la rotella del mouse sulla finestra dell'espressione dove è contenuta la nostra formula, possiamo aumentare o diminuire lo zoom e questo può rivelarsi utile soprattutto se stiamo presentando la finestra a qualcuno. Come già saprete, a sinistra, cliccando sulla seconda icona dall'alto, possiamo visualizzare tutti i campi che abbiamo a disposizione. La stessa cosa è però possibile scrivendo una parentesi quadra nell'espressione che farà uscire un elenco di tutti i campi e costanti che abbiamo nel flusso, mentre se già conosciamo il nome del campo possiamo semplicemente iniziare a scriverlo e cliccare poi sul campo che ci esce dall'elenco per aggiungerlo con la sintassi corretta. Se utilizzate spesso la funzione condizionale if per fare dei semplici controlli, sappiate che è disponibile anche la funzione abbreviata che fa praticamente la stessa cosa ma ha bisogno di meno indicazione da parte nostra, molto simile a come funziona ad esempio su Excel. Infine voglio darvi giusto un ultimo consiglio che riguarda la visualizzazione dei dati. Nella finestra dei risultati, premendo sull'iconcina con i tre zeri presente in alto a destra, Alteryx aggiungerà a tutti i campi numerici i separatori per le migliaia. Se poi preferite modificare i separatori utilizzando la virgola per i decimali e il punto per le migliaia, potete sempre farlo andando in options, user settings, edit user settings, localization e da qui selezionare appunto i separatori che preferite. Dopodiché premendo sulla solita icona i numeri verranno formattati seguendo queste indicazioni. Considerate però che questo ha solo lo scopo di aiutare nella visualizzazione dei dati, mentre non cambia il modo effettivo in cui Alteryx va poi a leggerli, in quanto utilizzerà sempre il punto per i decimali e nessun separatore per le migliaia.